dei Capuleti e dei Montecchi che è in questa direzione, quindi anche un richiamo alla storia di Romeo e Giulietta, ecco. Ripeto, non sta comprando una casa, qui sta comprando un pezzo di storia. Io sono abbastanza convinto. Bene, voglio dire. Dopo il prezzo, come parliamo? Il prezzo lo discutiamo, il prezzo delle case è sempre trattabile. L'hai chiamata? Sì, sì, sì. Prego, prego. Beh. Bellissima. Veramente. Ma prendo. Sì. Sei convinta? Io? Tu devi essere convinto. Ah, non è per voi due? No. Ah, pensavo ci veniste sempre. Non è per noi due? No. No, scusate. No, non è per noi due. Io pensavo di sì. Perché? Hai detto che ti piace? Sì, ma per te è perfetta vita. Perché? Ma non è un po' presto. Per cosa? Perché io e te abitiamo nello stesso luogo. Presto perché? Beh, ma non sai neanche come sono. Come no? Mi conosci poco. Sonia? Eh? E comunque io l'ho già fatto il pre-contratto. Sì. Eh, sì, certo. Eh, dal quale non possiamo tornare indietro. Eh, dal quale non posso tornare indietro, mi ricorda lui. A patto no, non si paghi una penale. Ma io che devo fare? Scusa, il pre-contratto lo firmi tu? Devi solo dire di sì? Cosa devi fare? Io non vengo qua da solo. Vuoi anche dimmi di no, eh, se vuoi. Basta che me lo dici, però. Ci pensi, signor? Ci pensi un attimo. Quanto cazzo ci devi pensare, sta roba? Dimmi sì o dimmi di no. Dopo se mi dici di no, perdo i soldi o me ne fotte un cazzo, va bene? Basta saperlo.